Come si determina la corretta alipotaiva? Questa è la prima schermata per l'individuazione della alipotaiva. Come vedete il programma vi dice già che è una procedura guidata alla corretta determinazione della alipotaiva e vi riepiloga anche ciò che è in grado di fare, ovvero individuare facilmente la alipotaiva, predisporre le voci per la corretta fatturazione, ottenere lo schema finale con importi corretti, questo è importante se voi poi volete copiare i dati all'interno del vostro programma di fatturazione, ma è anche in grado di generare la fattura elettronica che potrete importare all'interno del vostro software di fatturazione e a quel punto vi troverete tutti gli importi e le diciture corrette. Clicchiamo su Avanti. La prima cosa da fare è selezionare il tipo di intervento. Gli interventi sono divisi nelle manutenzioni, ordinarie o straordinarie, sui quali tendenzialmente si applica l'IVA mista, il restauro, il risanamento, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbana, sui quali di solito si applica EVA 10, e le nuove costruzioni, nelle quali l'IVA può essere all'IVA 4, al 10 o addirittura anche al 22. Se non conoscete nel dettaglio la distinzione tra questi tre macrocategorie di intervento, vi consiglio di cliccare su questi punti di domanda che trovate a fianco ed ecco che vi si apre un piccolo specchio dove c'è una breve descrizione dei tre tipi di intervento. Clicchiamo per esempio su nuove costruzioni. La seconda cosa da fare è selezionare il tipo di edificio. Anche questo è un passaggio molto importante per la corretta determinazione dell'aliquota IVA, perché in base al tipo di edificio potremo avere un'aliquota piuttosto che un'altra. Selezioniamo prima casa. Ecco che il programma ci dice che in questo caso l'aliquota da applicare sarebbe di val 4% su tutto. Se vi siete accorti di aver fatto un errore, dovete tornare indietro fino alla schermata iniziale e da qua potete ripartire. Facciamo un esempio, per esempio nuove costruzioni, però non era una prima casa, era una seconda casa non di lusso. Clicchiamo quindi qua. Il servizio che offriamo è una fornitura e pose di serramenti e o accessori. Il nostro tipo di cliente non è un'impresa che sta costruendo per rivendere, ma è un privato. Clicchiamo quindi su altri clienti. Ecco che ci dice che l'aliquota IVA è cambiata. Prima era al 4%, ora è al 10%. Abbiamo anche visto che prima alcune delle domande le ha saltate perché erano inutili. Quindi ti fa il minimo numero di domande per determinare qual è la corretta aliquota IVA ad applicare in quel tipo di cantiere. Vediamo anche che il programma riepiloga le nostre scelte, quindi qua dobbiamo controllare di aver scelto la situazione corretta, e ci dice anche qual è il documento fondamentale da richiedere al cliente per poter applicare l'aliquota agevolata. Facciamo ora un esempio in un caso di manutenzione ordinaria o straordinaria. Clicchiamo quindi manutenzione ordinaria o straordinaria. Clicchiamo edificio prevalente destinazione abitativa privata, come può essere una casa oppure un appartamento di un condominio. Clicchiamo su fornitura e pose di serramenti e accessori. Le altre due opzioni sarebbero solo fornitura di serramenti o accessori, quindi quando noi vendiamo al privato e poi il privato si arrangia a installarseli. Oppure fornitura e pose di accessori o manutenzione. In questo caso non c'è il bene significativo, ovvero il serramento. E quindi potrebbe essere l'installazione delle zanzarriere oppure la riverniciatura degli scuri in legno. Noi selezioniamo fornitura e pose di serramenti e accessori. I tipi di clienti si dividono solo in due categorie, o le imprese appartatrici, quindi noi vendiamo loro e poi loro rifatturano al cliente, oppure tutti gli altri tipi di clienti. Ecco quindi che ritroviamo il riepilo delle nostre scelte, l'aliquota da applicare a questa fornitura e pose di serramenti, e il documento essenziale per essere sicuri di poter applicare l'aliquota agevolata. Fatto questo, clicchiamo su Crea documento.